e va bene non vedo altri commenti inerenti a dragon ball quindi passerei al prossimo anime che è inuyasha secondo anime di giornata appunto parliamo di inuyasha e per quel che riguarda il manga il primo capitolo in giappone è stato pubblicato il 18 aprile scusate il 18 aprile del 1997 in italia a gennaio del 2001 l'ultimo capitolo nipponico risale al la pubblicazione dell'ultimo capitolo appunto nell'estremo oriente risale al 18 febbraio 2009 qui da noi è stato pubblicato il 14 maggio del 2009 per quel che riguarda l'anime la prima puntata è andata in onda in giappone il 16 ottobre del 2000 da noi il 6 novembre del 2001 mentre l'ultima puntata nipponica è andata in onda il 29 marzo 2010 qui da noi il 5 febbraio del 2011 per quel che riguarda la trama ve la leggo trovandosi all'improvviso nel giappone feudale la studentessa kagome fa coppia con il mezzo demone inuyasha per recuperare i frammenti sparsi di un gioiello sacro conosciuta come sfera dei quattro spiriti allora oh questo si mi piaceva tanto beh si inuyasha è bellissimo davvero a me piace a me anche piace tantissimo e in questo senso in realtà devo ringraziare come spesso faccio devo ringraziare il mio zio massimo che la prima volta è un video una puntata la prima volta che vi di nuyasha era una puntata non mi ricordo quale però la vidi con lui e mi piacque tantissimo tanto che poi la recupera subito molto molto bella e per quel che riguarda l'anime posso aggiungere anzi devo aggiungere che è composto da sette stagioni per un totale di 193 episodi da 20 minuti l'uno quindi è in realtà anche molto fattibile e su netflix sono reperibili le prime quattro stagioni se vi interessa e quindi ecco che ne pensate per chi ha visto l'anime vorrei sapere che è il vostro personaggio preferito e per chi non l'ha visto vorrei sapere se sono riuscito a incuriosirvi e personalmente ecco posso dirvi che il mio personaggio preferito è kirara che ha visto l'anime ricorderà kirara e la molla follia e sull'anime posso dirvi che l'ho apprezzato molto come vi ho detto molto molto bello cioè amo kirara perché in realtà è un come si chiamano i gatti con i gatti giapponesi quelli con due code io non ricordo no 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 sicuramente no lui che finge di essere cattivo invece adorabile lei a volte odiosa adoro il piccoletto come si chiama la volpina scippo scippo la volpina è scippo e comunque sì sì non gli ascia vabbè alla fine fa lo spaccone però in realtà è un bravo gattone non glielo dite sennò viene qui con la spada e mi distrugge comunque no è adorabile sì e vabbè cagome comunque sì è comunque un adolescente quindi ha quegli sbalzi d'umore poi insomma ha quegli sbalzi d'umore un po' così scippo è il mio preferito beh comprensibile comunque anche scippo fa ammazzare delle risate che è questa volpe bambina che praticamente con l'innoscenza con l'innoscenza sì sicuramente con l'innoscenza e la sfacciataggine comunque dei bambini comunque gliene dice di tutti i colori ai nuyasha è bellissimo vederli perché poi nuyasha fa ammazzare delle risate perché poi si abbassa il sole si comporta come un bambinone davvero e quindi si rincorrono si ammazzano di botte e cagome che prende la parte di le parti di scippo che ovviamente accentua la reazione ovviamente che le attenzioni di cagome scippo essendo una volpe c'ha l'occhio lungo e comunque e no quindi ecco dicevo kirara è questo gatto ha due code tipico giapponese adesso non ricordo nel caso specifico la creatura come si chiami però è adorabile perché poi quando è ora di combattere diventa questo gatto enorme che è fantastico è coraggioso scippo sì sì ovviamente è anche coraggioso sì ricordo limpidamente una puntata dove doveva affrontare una creatura un'altra volpe di un clan rivale al suo dove che gli aveva chiesto di affrontarlo da solo e lui da solo va per affrontarle e combattere sì in effetti sa prendersi le sue responsabilità è molto coraggioso anche scippo un gran bel personaggio sì ma poi c'era il monaco che tocca sempre femmine eh sì di aspetta io abituato a chiamarlo bonzo oddio il monaco pervertito si chiamava io ho detto abituato a chiamarlo bonzo come inuyasha aspetta eh allora vediamo un po' inuyasha te lo dico subito personaggi allora vediamo un po' miroku il monaco miroku poi abbiamo se shomaru anche che è molto molto figo non vi dico chi è se shomaru però guardate l'anime se vi va è fighissimo c'è sango che è forte e vabbè insomma poi abbiamo kikyo e naraku che non vi dico chi sono però insomma a modo loro comunque sono fighi insomma inuyasha sì gran bel gran bell'anime sì non è neanche troppo lungo a dire la verità certo in alcuni punti ci sono delle puntate ecco che potrebbero in realtà anche essere in realtà tagliate perché allungano un pochino il brodo non troppo però cioè però non sono sono non tantissime ecco però ecco molto molto bello a me piace tantissimo sì esatto stupendo sì il nonno di cacome ah vabbè sì sì il nonno di cacome vabbè altissimo livello sì sì che parla di di tutte cose delle origini della famiglia che da 200 miliardi di anni e nessuno l'ascolta parla da solo pure piccolo angelo sì sì il nonno di cacome anche fa ammazzare dalle risate fantastico grazie a tutti